bella ragazzi sono gtg2 e oggi ragazzi siamo qui per fare questo mini video perchè oggi oggi è mercoledì 23 dicembre oggi vi do dare queste due notizie la prima è che non uscirà il video della reaction alla nuova canzone di ultimo e la seconda è che non uscirà la reaction alla partita del Bari cioè Palermo Bari non non uscirà no 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 per problemi miei personali quindi queste erano le due mini notizie e però dell'assemble del Bari farò quel video di circa due minuti che spiego come è andata vabbè e vabbè la seconda partita è saltata vabbè però speriamo che almeno vinciamo anche così vabbè raga queste erano le mini due notizie e si purtroppo oggi è andata così fa niente fa niente perchè problemi personali non posso fare non posso fare niente di che e vabbè questo video ho ascoltato che è molto importante perchè se uno dice ma è andata fine la reaction alla partita del Bari e la reaction alla canzone di ultimo non non usciranno però dal Bari uscirà solo quella video di due minuti che spiego come è andata vabbè spero che questo video vi sia piaciuto lasciate like e vabbè ci vediamo nel prossimo video bello